Esercizio Russian Sit-up. Grande esercizio per il corpo che stimola ampiamente la catena flessoria anteriore. Andiamola a vedere. E' una variante del classico sit-up. Solamente che prevede di mettersi le gambe distese leggermente divaricate e qui andarsi a stendere indietro, tenere le braccia sul viso. Se vuoi puoi renderlo più difficile tenendo un peso in mano e da qui vai su ad alzarti e poi ad aprire. Torni giù lentamente, rotoli piano e di nuovo torni su e apri tutto. Apri bene le spalle, sederi in fuori quanto riesci e torni giù. Ecco uno degli errori è quello di andare su nelle braccia avanti. Ovviamente diventa più semplice perché le braccia ti aiutano nella salita. Oppure per la poca mobilità articolare fare questo. Su. Ecco diciamo che questo è incompleto. Non è un vero e proprio errore perché dipende comunque dalla mobilità della spalla ma è incompleto. Se ce la fai è questo. Devi aprire bene. Anche comunque un esercizio in parte posturale che ti aiuta a migliorare la postura. Se hai dubbi o domande non esitare a contattarmi. Ciò ch'owania allenere. Alimi. Grazie a tutti.